E' un giorno speciale per Paperino Paperino festeggia il suo compleanno E tutti voi siete invitati a partecipare alla sua festa Lasciatevi stordire da questo nuovo volume della serie Cartoon Classics Perciò unitevi a noi e sbellicatevi dalle risate Un avvenimento assolutamente irresistibile per tutta la famiglia Ok, guarda questo Non crederete ai vostri occhi, è Paperino 60 anni in allegria Da Walt Disney Home Video Oh boy, oh boy, oh boy